Il capitano, 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 il capitano. Possiamo essere ricordi prima di essere italiani, esteri umani! in diretta in diretta ma 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 Matteo! 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 Vittorio, Gesù! Giù ragazzi, giornalisti! Giù ragazzi! Salvini! 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 Matteo, Matteo, buongiorno! Buongiorno, Matteo! Mi devi scosta! Eh, lo so, mi sono un po'... Aiuto! Forse l'hai messo a... Matteo, meglio solo che male accompagnato! Meglio solo che male accompagnato! Non giocherla! Quando il bimbi la partite vence! La partite vence! Posso farlo un po'? Grazie! E' un piccolo giro! E' un piccolo giro! Grazie! Matteo, Matteo! Matteo! Che è una foto! E' tutti noi! Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie.